E restiamo in qualche modo in ambito relli perché nel villaggio che è stato allestito nella banchina del porto e che ha ospitato diversi stand tra i quali quello dei Carabinieri, di Finanza e Barracelli per la prima volta c'era anche quello dell'Agenzia Dogane e Monopoli e abbiamo voluto conoscere meglio l'attività di questa importante realtà nazionale intervistando Roberto Chiara a capo della direzione interregionale Toscana, Sardegna, Umbria. Siamo con Roberto Chiara, direttore territoriale Sardegna, Umbria e Toscana dell'Agenzia Dogane e Monopoli in occasione del relli anche voi avete qui lo stand ma ci interessava, ci incuriosiva che voi parlaste della vostra attività perché voi fate tantissimo quotidianamente e magari molte persone non sanno di che cosa vi occupate che cosa fate? Noi facciamo tante cose ovviamente, qui in questo stand lo scopo è proprio quello di dimostrare dare uno spaccato di quello che facciamo l'attività si articola su settori macrosettori quindi dogane, accise, monopoli e giochi qui in questo stand abbiamo deciso di dare una indicazione per quello che riguarda soprattutto la parte del contrasto alla contraffazione quindi abbiamo una vetrina dove sono esposti i prodotti contraffatti poi abbiamo esposto anche una macchinetta sequestrata per quello che riguarda appunto il contrasto alle ludopatie perché questo è un fenomeno molto diffuso in cui noi siamo impegnati in prima linea l'agenzia Dogane e Monopoli è il presiede, il copreggi che è il comitato prevenzione dei giochi e quindi abbiamo inteso dimostrare un pochino come funziona anche questo tipo di contrasto per tutelare la cittadinanza dal rischio di ludopatie poi abbiamo una terza parte dello stand che riguarda invece il laboratorio chimico perché molti non lo sanno ma noi abbiamo su tutto il territorio nazionale 14 laboratori chimici a Cagliari per la Sardegna c'è un laboratorio che è specificamente impegnato per quello che riguarda l'agroalimentare, il contrasto agli stupefacenti quindi identificare il tipo di stupefacente che viene eventualmente introdotto sul nostro territorio e poi per quello che riguarda gli utrocarburi ripeto, lo scopo è quello di far capire anche in diretta alla cittadinanza cosa fa l'agenzia che ripeto ha molteplici compiti e che svolge un ruolo molto importante nell'ambito del contrasto ai fenomeni illeciti sul territorio quindi noi siamo felici di poter rappresentare quello che facciamo in una manifestazione come il rally di Alghero che è comunque una manifestazione importante che richiama comunque l'attenzione di molta gente